Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, per traffico in direzione sud, coda in uscita a Firenze sud e rallentamenti tra Baldarno e Arezzo. La Firenze mare coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. In a 12 restano 5 km di coda per lavori, traversile e massa in direzione di Genova. Regolare al momento il traffico in Fipiri, dove segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Montelupo e Ginestra e tra la Strassigna e Firenze Scandicci, verso Firenze in carreggiata opposta tra la Strassigna e Ginestra. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, l'Intercity 583 Mirano Centrale e Napoli Centrale sta viaggiando con 46 minuti di ritardo. Il transito a Firenze rifredi è il momento previsto alle 10.57, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!